Benvenuti su Notizia in un clic, io sono Loredana per la giornata di oggi venerdì 9 giugno. Mini rassegna, ossia la lettura di alcuni titoli di articoli che abbiamo pubblicato e che andremo ancora a pubblicarne nel corso della giornata. Si avvicina a vivere Parco 2023, Parco delle Terme di Levico. Sull'abuso d'ufficio la maggioranza va in tilt sotto gli occhi di Nordio. Antonio Vivaldi e le quattro stagioni al castello del Buon Consiglio. Lì torna a far parlare di sé. Roccal Pride con la parrucca che sogno per l'estero. PNR Gentiloni, la commissione attende di ricevere una proposta di rimodulazione per il prima possibile. Della nuova legge sul Made in Italy per l'educazione finanziaria. Serie B alle 20.30, Cagliari, Bari, terzo settore, anziani maltrattati. Eventi coltore e spettacolo continuiamo con le giornate della luce venerdì, quindi oggi ospiti Isabella Rossellini. Per gli articoli più popolari scelti da voi confermo e vi ringrazio l'articolo, anzi più che altro che confermate voi, fra i preferiti, ossia l'opportunità per te che sei il nostro lettore e hai un'azienda. Grazie ancora per le vostre adesioni. Questo era il quanto al momento. Io mi fermo qui e vi ringrazio per l'attenzione che mi avete dedicato. Ci sentiamo alla prossima. Grazie e buona data.